I disegni dell'embo nella GTR, tecnica di preservazione della papilla vestibolare. Un paziente di 31 anni giunge la nostra attenzione con una grossa tumefazione sull'aspetto vestibolare dell'elemento 11. L'esame radiografico mostra immediatamente la gravità del difetto. L'esame obiettivo mostra una situazione che sembra priva di infiammazione, vista lo spessore di gengiva cheratinizzata presente, ma al sondaggio, come è possibile vedere, l'elemento 11 mostra, nel suo aspetto mesiale, una perdita d'attacco che è valutabile intorno ai 13-14 mm. Sull'aspetto palatino, con la nostra sonda, possiamo ulteriormente valutare una perdita d'attacco di 15 mm. L'aspetto distale dell'elemento 11 dà segni di perdita d'attacco e i denti limitrofi mostrano l'integrità parodontale. L'intervento inizia con un'incisione nel solco, separando la papilla fra laterale e centrale di sinistra, prosegue nel solco e, giunti sulla faccia mesiale dell'elemento 21, perpendicolarmente, viene eseguita un'incisione così da incidere la papilla sull'aspetto vestibolare e preservarne la sua integrità. L'incisione prosegue nel solco e, giunti sulla faccia distale dell'elemento 11, viene nuovamente separata, divisa, la papilla fra 12 ed 11. Sull'aspetto mesiale dell'elemento 13 viene eseguita l'incisione verticale di rilasciamento e lo stesso tipo di incisione viene eseguita a livello della faccia mesiale dell'elemento 23. Mediante uno scolla periostio viene ora sollevato un lembo a spessore totale e con questo strumento ci estendiamo almeno 2 mm più apicale rispetto alla profondità del difetto. Sull'aspetto palatino viene eseguita un'incisione intrasurculare. Ora l'incisione è finalizzata per poter quindi sollevare la papilla integra e poterla poi trasferire dal vestibolo al palato. Sempre mediante una lama 15C viene separato il tessuto granulomatoso al di sotto della papilla in modo che rimanga all'interno del difetto e quindi con uno strumento, in questo caso viene usato un CTGO, con delicatezza si trasferisce la papilla dal vestibolo al palato. Con delicatezza, spingendo in senso vestibolare, eseguendo una trazione in senso palatino, verrà trasferita la papilla dalla zona vestibolare alla zona palatina. A questo punto, mediante degli strumenti a ultrasuoni, inizia il debritment, lo sbrigliamento del difetto, che possiamo eseguire con tutto lo strumentario che riteniamo più idoneo, in questo caso stiamo usando una fresa diamantata a 40 micron e come potete vedere la sonda rileva l'entità del difetto. Anche sull'aspetto palatino viene eseguita la stessa operazione, come è possibile vedere una currette può addirittura ruotare completamente, circondare completamente l'elemento dentale. Proseguiamo lo sbrigliamento e la levigatura radicolare e come è possibile osservare, vengono mantenute le poche fibre ancora inserite sull'aspetto vestibolare dell'elemento. Data la notevole compromissione dell'apparato d'attacco fin oltre l'apice dentale, è reso necessario il trattamento endodontico. La radice viene trattata con tetraciclina che viene applicata per 3-5 minuti sulla superficie radicolare con palline di cotone. Si può apprezzare la ridottissima porzione di supporto parodontale residuo. Viene utilizzato un alloinnesto di osso liofilizzato decalcificato per il riempimento del difetto. L'innesto viene portato sul sito con uno strumento adatto, in questo caso un pre-chart, e viene quindi compresso delicatamente, a poco a poco, entro il difetto, fino al suo completo riempimento a livello delle pareti ossee esistenti. Si adatta una membrana non riassorbibile, interprossimale, rinforzata con titanio, in posizione leggermente apicale all'aggiunzione smalto-cemento dei due centrali. La membrana si deve stendere per almeno 3 mm oltre il margine del difetto. e viene fissata ai due denti mediante una sutura a fionda con filo da sutura non riassorbibile, Gore-Tex. Il primo punto di sutura viene dato sull'elemento 11 così da ottenere un ottimo adattamento della membrana all'elemento stesso. e in un secondo tempo viene eseguita la sutura sospesa sulla faccia distale dell'elemento 21. È possibile osservare il corretto adattamento della membrana sia sull'aspetto vestibolare che sull'aspetto palatino. Dopo aver inciso il periostio e le necessarie fibre muscolari onde ottenere un buon rilasciamento del lembo si inizia la sutura. Due sono i punti veramente importanti che devono essere eseguiti. Il primo, come potete osservare, è un materassaio incrociato, orizzontale, che si ingaggia sull'aspetto vestibolare a circa 4-5 mm più apicale rispetto al margine gengivale e sull'aspetto palatino alla base della papilla palatina. Questo punto a materassaio incrociato ha lo scopo preciso di sopportare l'eventuale tensione residua dell'embo e l'incrocio del filo stesso al di sopra della frame in titanio posta nell'aspetto interprossimale garantirà il suo mantenimento in senso coronale. Completato questo punto vengono dati dei punti staccati semplici per suturare le papille tra l'elemento 21 e 22 e 11 e 12. Fatti questi semplici punti con movimenti molto delicati si riposiziona la papilla e mediante un materassaio verticale la papilla viene di nuovo stabilizzata nella stessa posizione in cui si trovava prima dell'intervento chirurgico. È facile intuire che grazie al primo punto a materassaio incrociato questo nuovo punto non avrà nessuna necessità di sostenere nessun tipo di trazione che chiaramente viene sopportata dal punto eseguito precedentemente. Scopo di questo materassaio è solo quello di mantenere la papilla priva di ogni tensione a contatto con il lembo vestibolare. Questi due punti garantiranno un'altissima predicibilità di guarigione nell'unico punto in cui chiaramente il disegno del lembo potrebbe risultare critico per la guarigione. Come è possibile osservare la papilla viene perfettamente adattata. I punti di sutura vengono rimossi dopo dieci giorni ed è facile notare l'assoluta assenza di infiammazione. Il paziente deve avere un ottimo controllo di placca per tutto il periodo della guarigione per tutto il periodo in cui la membrana viene mantenuta all'interno dei tessuti. Dopo circa quattro mesi è possibile osservare lo stato di salute parodontale l'assoluta assenza di infiammazione e quindi possiamo rientrare per rimuovere la nostra membrana. Con lo stesso tipo di incisione nel solco per dividere la papilla fra centrale e laterale e di nuovo preservare la papilla questa volta con un bisello molto allungato tra i due centrali proseguiamo l'incisione nel solco ci estendiamo sull'aspetto distale dell'elemento 12 eseguiamo un'incisione verticale di rilasciamento e con molta delicatezza solleviamo il lembo vestibolare fino ad esporre il margine apicale della membrana. Come è possibile osservare non vi è nessun segno di infiammazione una volta sollevato il lembo di nuovo con il stesso strumento usato nella prima fase chirurgica questo CTGO con movimenti molto delicati e dopo aver inciso nel solco dopo aver eseguito un'incisione nel solco anche sull'aspetto palatino mediante movimenti di spinta dall'aspetto vestibolare e di trazione sull'aspetto palatino di nuovo cerchiamo di trasferire la papilla dal vestibolo al palato una volta sollevato quindi il lembo palatino quel tanto che ci renderà possibile la rimozione della membrana che come potete osservare risulta assolutamente priva di qualsiasi segno di infezione rimossa la membrana è possibile osservare il grado di rigenerazione ottenuto e come l'immensità del difetto presente si sia completamente riempita la qualità clinica della rigenerazione ottenuta è veramente meravigliosa mediante una lama del 15C di nuovo rilasciamo il nostro lembo e questa volta con una sola sutura a materassaio verticale la papilla viene di nuovo riposizionata nella posizione iniziale è sempre molto importante che tutte le suture vengano eseguite su lembi privi di qualsiasi trazione residuale il materassaio è quindi in grado di riportare i due lembi perfettamente a contatto e quindi di nuovo garantire una guarigione ottimale vengono successivamente eseguiti i punti staccati semplici e possiamo quindi osservare la nuova situazione dopo aver rimosso la nostra membrana nuovamente i punti saranno rimossi dopo circa dieci giorni e in questo caso possiamo osservare la guarigione a circa tre mesi di distanza da quando è stata rimossa la sottura e soprattutto vedere la situazione prima del trattamento il grosso difetto presente e la rigenerazione ottenuta dopo quattro mesi dopo un anno circa quando è possibile sondare con tutta tranquillità e quando avremo anche un suffragio radiografico della rigenerazione ottenuta vengono rimossi gli splintaggi che erano stati posizionati per permettere una più agevole terapia anche radiograficamente è possibile vedere la rigenerazione ottenuta a distanza da un anno questo era l'aspetto dei tessuti prima del trattamento e questa è la situazione clinica dopo tre anni dal trattamento ripercorrendo le varie fasi terapeutiche possiamo apprezzare quanto fosse grave ed avanzato il danno parodontale a carico delle strutture profonde e quanto generoso sia stato il recupero di tali strutture ed il tutto accompagnato da un risultato estetico ottimale la stabilità di queste strutture parodontali viene confermata in occasione di ogni controllo clinico e la papilla interincisiva è ben rappresentata soddisfacendo completamente le richieste estetiche del paziente di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio